Dai, chiamata così la facciamo insieme. Allora io aspetto te, Valeria, così quando siete tutte e due pronte, io faccio la cosa. Ma che fai, Antonio? Antonio, ma che fai? Ma perché andai? Non lo so, non ce l'aiuto. Ti ho beccato, eh! Diggela là! Lo sapevo che... E la pizza adesso? Stai facendo meditazione? Ma che volete, Rabe, io non ce l'ho, sta pizza. Dai, dai, che la voglio fare, la pizza. Che ne so io dov'è sta pizza? Ve la maniata e poi la cercate. Allora, intanto, dai, rifacciamola. Ecco, non sono divertito. Intanto rifacciamola. Dai, facciamo la pizza, dai, Adriche. Così io faccio... Licia, guarda che ci hanno chiesto dopo, dobbiamo fare il trucco dopo noi due, eh. Io e te? Te la faccio io a te. Licia, ma è dove? Ma allora dobbiamo dire... Cioè ti ha fatto andare avanti e indietro come nasce... Amore, amore! Ma cosa stai facendo? Meditazione? No, meditazione... Adri, dimmi la verità, se lo so mangiato... Ma sarà lì, no? Secondo me... Facciamo la pizza, dov'è? Sì, però quello è lì, ciao.